Tanti anni in nazionale, tanti anni finito l'Argentina, in Cina, in Russia, c'è ancora il primo punto che trova di inizia, la brasiliana, il primo punto per la salita del Danca, in questa situazione, 5-1 e c'è Giulia Rondon nel servizio. Futonizza questo pallone nel senso che alla fin fine sembra una blanca, è tornata in Italia, l'ho detto dopo lo scudetto alla Pumi, 32 anni, la sua grande esperienza al servizio di Davide Mazzanti, con Rondon, primo tempo che fa giocare a Venezia, la brasiliana, di nuovo, di nuovo, il quarto punto per Scandicci. È una delizia, delizia, perché riesce ad arrivare contro l'incorso, ad anticipare, a portare via perfettamente quel pallone, lo rivediamo grazie al replay di Antonina Rossi, con un muro penetrante su quest'otto del nostro campionato. Grazie a quel pallone. Oh mamma mia! Sbaghera, sbaghera che ha una corsa grande con la palla che se ne va via. Spiegamelo tu questo. No, no, infatti vorrei rivedere il replay per la che sembra proprio una palla forte, ciccata. perché ha avuto un attretto, ne la rivediamo. Sì, 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 incredibile capacità di lottare quel pallone. L'attacco da Venezia, ad Venezia sbaglia pochissimo. Brava la brasiliana, le due cammini. E più che altro non riescono a trovare il tempo di Venezia a mettere bene le mani. L'orandese più centrale sul passare, ancora problemi, balla nel campo della Sampere. Balla del sette, ad Venezia, lo trova lei. Il sette, lo trova Neitz, la brasiliana pareggia, pareggia i punti. Problemi per Costa Grande, la rivelazione dall'altra parte. Un altro primo tempo molto morbido, non veloce, con Foli. E si fa spostare la persona. con l'altra parte su un pallone che sta mandando un verso il Ducca. 13 pari. Ancora con... Che è? Il primo tempo che non va perché ad Venezia su Foli trova il punto numero 14. Attenzione perché il match point per la Salino De Pene Scandici chiama il cerchio però Davide Marciano. passante, giù l'invasione. Andiamo a leggere bene se ci danno anche replay dell'azione. Perché Foli si è precipitata troppo sotto rete. E' a profondo rosso ora, secondo me, è proprio nella... E' a profondo rosso ora, secondo me, è la...